sono Riccardo sono il fondatore di questo laboratorio di grafica d'arte appunto abbiamo deciso di fondare assieme a Pilar e Federica il laboratorio lievito creative lab che si occupa proprio di tecniche incisorie con la scuola mogol abbiamo iniziato abbiamo fatto questo progetto insomma proprio per far vedere ai ragazzi due delle tecniche incisorie che sono tra le più importanti diciamo hanno elaborato con me la silografia con una matrice di linoleum e con un tema che le ha dato Camilo e ognuno ha sviluppato la sua matrice e noi le abbiamo stampate qua e io con loro invece facevo la stampa serigrafica che hanno sperimentato in questo caso con la nostra giostra proprio per far sperimentare agli studenti una manualità che effettivamente in un mondo in cui il digitale è sempre più preponderante è buona cosa insegnare ancora queste tecniche che sono antiche che sono di grande valore e manualità insomma quindi molto importante allora sia in serigrafia che in xilografia abbiamo stampato sia sulla carta che sul tessuto la serigrafia è la tecnica che si presta per la maggiore alla stampa sul tessile proprio per la resistenza degli inchiostri che hanno sul 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 tessuto mentre anche in xilografia hanno stampato sul tessuto è una cosa meno meno usata però è un bellissimo diciamo regalo veder stampato un proprio lavoro su una su una maglietta su una shopper su una borsa è una cosa che dà sempre un effetto positivo a chi effettivamente lo fa per la prima volta